Sei un vero tifoso nero azzurro? E soprattutto sei pronto a dimostrarlo? Allora, seguimi. Inter e Lockout, l'autonolleggio dei nero azzurri, ti sfinono al Black and Blue Game. Metti in moto la tua passione per l'Inter. Vai sul sito lockoutrent.com, registrati al Black and Blue Game e rispondi a poche semplici domande. Potrai vincere una giornata da Interista VIP e tanti altri premi. Questa la so, questa la so, questa la so. Sono troppo nero azzurro. Se sarai il più bravo potrai calpestare. Con me l'erba del campo viro le emozioni di una partita dell'Inter nel cuore di San Siro. Uè, non mi deludere, gioca subito con Lockout e dai sfogo alla tua passione nero azzurra. Ti aspetto.